Dal 18 al 21 marzo 2014 in Fiera Milano l'efficienza energetica incontra il mercato a MCE, mostra convegno Expo Comfort. La manifestazione leader nell'impiantistica civile ed industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili, che si presenta con un'ampia offerta espositiva in tutti e quattro i macrocomparti, freddo, caldo, acqua ed energia. Siamo in compagnia dell'ingegner Fabrizio Pasquini, amministratore delegato per GIA. Ci vuole presentare la sua azienda? GIA è un'azienda italiana che da 30 anni produce, progetta e commercializza sistemi di fissaggio per il sestore idrotermosanitario. GIA è sempre stata riconosciuta dal mercato in un'azienda fortemente innovativa, made in Italy e ancora oggi siamo fieri di portare avanti il made in Italy in un mondo che si sta globalizzando e sempre più competitivo. A maggior ragione la partecipazione a questa manifestazione non si poteva mancare? Assolutamente sì, da quando GIA è presente sul mercato ha sempre partecipato con grande entusiasmo alla mostra convegno e per noi è una grande opportunità di ritrovare gli installatori, che poi sono gli utilizzatori giornalieri dei nostri prodotti, di trovare i nostri amici distributori grossisti e negli ultimi anni, devo dire, con grande soddisfazione anche molti clienti esteri. In questo senso oggi siamo qui ad aspettare molti distributori all'estero con cui stiamo aprendo nuove opportunità di collaborazione. Allo stesso tempo voi puntate in particolar modo su un prodotto in questa edizione? Ma sì, quest'anno è un anno importantissimo per noi perché lanciamo un nuovo collare molto innovativo, quindi continuiamo la tradizione dell'innovazione, un collare in un tecnopolimero, si chiama Flip, l'abbiamo qui alle nostre spalle, che rappresenta un po' un nuovo punto di partenza per noi nell'installazione, un collare che consente rapidità di utilizzo, universalità e abbinato a una grande robustezza. Infatti abbiamo questo simpatico gioco, gli installatori stanno cercando di romperlo ma oggi non ci sono riusciti. Grazie a tutti.